In effetti c'è stato... 2 AA debbono essere calati, il 2 rimane insieme con le altre singole carte, forma una mano ideale per catturare il pozzo entro pochi giri. Minchia il pozzo! Ma che canasta? Edo fastidio Edo, cosa stai facendo? Sto grattagliate Edo che sta utilizzando questo strumento di precisione. Questo è un barometro che indica la distanza dal bar. Adesso ogni volta che diventa verde uno ha bevuto una birra. Gli ultimi guarda... Eh birra, birra! Eh birra! Eh birra! Eh birra! Senti quelli che bevono... Noi no... Come ti senti a proposito? Io stasera farò la stevia di tour Andrea, Tarra, che è qua sottoscritto Edo, Tarra, Edo Ma io non ti ho autorizzato però a dare i miei dati Edo, Tarra Si scanca con la K O CH Perché è svizzero Ragazzi, io siete ben divertiti Ragazzi 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 Ascoltate 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 www.radio-contatto.it Sembra di preferire il sociale Ragazzi Sei contento? Siamo finito Adesso si smonta Si va a casa Si va a casa Si va in saletta e si rimonta Canca lavoro Preme contatti Inebria 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 Caffè col retto Sambuca Un D Caffè col retto Col retto Col retto Prenditi 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 Non mi interessa agli spettatori Ci sono Perché Abbiamo acquistato due bevande al caffè Gostoro